Cos'è l'ecografia? L'ecografia è una tecnica di imaging utilizzata molto spesso in campo medico ai fini della diagnosi o della valutazione. È una procedura completamente non invasiva che prevede l'uso di onde sonore ad alta frequenza per mappare un'immagine delle strutture corporee interne. Il tipo di suono usato, spesso chiamato ultrasuono, è a frequenze da 2 a 18 MHz, molto al di sopra dell'intervallo che l'orecchio umano può rilevare. Le onde ultrasoniche vengono trasmesse attraverso una sonda portatile nota come trasduttore, che rileva anche il modo in cui le onde sonore interagiscono con l'oggetto visualizzato. Questi dati sono tradotti in un'immagine visiva su uno schermo. Di solito queste immagini non sono molto chiare per gli occhi inesperti, quindi un medico esperto chiamato un ecografista deve interpretare l'immagine. L'esatta frequenza emessa dal trasduttore e controllata con precisione dipenderà dalla parte del corpo che viene visualizzata. L'uso più noto di ultrasonografia è inostetricia, in cui viene utilizzato per visualizzare un feto non nato. L'ecografia fetale ha una varietà di scopi. Il posizionamento della placenta, la posizione relativa del bambino, così come il suo genere e la salute dei suoi organi principali, possono essere determinati attraverso l'ultrasonografia. Possono essere rilevate potenziali complicazioni e nascite multiple, rendendo l'ultrasonografia uno strumento prezioso durante il corso della cura prenatale. Salvo eventuali complicazioni precedenti, è tipico che venga eseguita un'ecografia fetale di routine quando il feto ha raggiunto un'età gestazionale di 20 settimane. Ci sono anche molte altre applicazioni di ultrasonografia al di fuori dell'ostetricia. La maggior parte delle aree del corpo può essere vista attraverso l'uso degli ultrasoni. Il cuore, le ossa, i reni, il tubo digerente, i muscoli e i nervi sono solo alcuni degli organi e dei sistemi che possono essere osservati con l'ultrasonografia. Uno dei pochi organi che non possono essere osservati bene da questa tecnica sono i polmoni, perché contengono aria, che impedisce alle onde ultrasoniche di attraversarli. Il valore degli ultrasoni in quanto tale non è limitato solo alla diagnostica, ma ha anche alcune applicazioni terapeutiche. Ad esempio, l'ecografia può essere utilizzata per pulire i denti e per trattare la cataratta. Incentrato in un certo modo, può anche essere usato per distruggere i calcoli renali e curare le crescite cancerose. L'ecografia è stata ampiamente utilizzata dall'ultima parte del XX secolo. Data la relativa novità di questo tipo di tecnologia medica, è probabile che vengano fatte ulteriori scoperte in relazione alla sua utilità per la diagnosi e il trattamento.